Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina della cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale. Vi riferiamo di due arresti eseguiti all'alba di oggi a Gela, dalla squadra mobile e dalla polizia del locale commissariato. In manette i due esponenti del clan Emanuello hanno tentato un'estorsione ad un imprenditore locale impegnato nel settore della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle contrade Bulala e Migniechi. Tentata estorsione in concorso aggravata dall'averla commessa valendosi della forza di intimidazione e della legame con la consorteria mafiosa di Cosa Nostra, clan Emanuello. Avevano preso di mira un imprenditore impegnato nel settore della raccolta della plastica dismessa dalle serre a Gela. Adesso sono in carcere arrestati dalla squadra mobile di Caltanissetta e dalla polizia del locale commissariato. In esecuzione due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il tribunale nisseno David Salvucci su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Le manette sono scattate per Maurizio Turbia, 48 anni, e Diego Nastasi, di 50. Questo ultimo si trovava agli arresti domiciliari per altri precedenti. L'attività investigativa condotta dalla mobile dal commissariato di Gela, diretti rispettivamente da Marzia Giustorisi e da Francesco Marino, è stata avviata nell'aprile scorso. Sono stati alcuni imprenditori gelesi che, accompagnati dall'anti-racket di Gela, avevano segnalato un tentativo di estorsione ai danni di un loro collega impegnato nel settore imprenditoriale della raccolta della plastica dismessa dalle serre nelle contrade Bulala e Mignechi. Turbia e Nastasi avevano cercato di convincere, attraverso minacce chiare ed implicite, a corrispondere loro delle somme di denaro di un ammontare non precisato ma da determinare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Diego Nastasi, su ordine di Maurizio Turbia, si è incontrato con la vittima chiedendogli quale fosse la somma di denaro che era disponibile a corrispondere al suo compare per ogni autocarro di plastica dismessa recuperata dai sericoltori che operano nel territorio, sottolineando che già altre persone si erano dichiarate disponibili a pagare una somma determinata di denaro pur di avere l'esclusiva nella raccolta della plastica, facendo chiaramente intendere che, in caso di mancato pagamento, lo stesso non avrebbe più potuto proseguire nella sua attività di raccolta della plastica dismessa in quel territorio. L'imprenditore però ha denunciato tutto alla polizia e prezioso, come dicevamo, è stato il contributo dell'associazione antiracket di Gela preseduta da Renzo Caponetti, che è riuscita ad infondere negli imprenditori il coraggio di denunciare e la fiducia nelle istituzioni. Il risultato investigativo conseguito, sottolineano gli inquirenti, non solo ha permesso di riscontrare le digrazioni degli imprenditori e di individuare il sistema mafioso che cercava di imporre il proprio diktat sul territorio, minacciando pesantemente gli imprenditori del settore della raccolta della plastica, ma ha permesso di individuare in Maurizio Turbia l'uomo che dopo gli arresti del novembre 2015, operazione Radivivi, stava cercando di riprendere le redini del clan Emanuello. Ed importante, come avete appena sentito, al servizio è stato il contributo offerto in questa vicenda dall'associazione antiracket di Gela. Sentiamo il dirigente del commissariato locale, Francesco Marino. Dottore Marino, anche in questa occasione è stata preziosa la collaborazione offerta dall'antiracket di Gela, che è riuscita ad infondere negli imprenditori il coraggio di denunciare. L'associazione antiracket è stata la nuova chiave di volta di tutto l'impianto che è partito grazie alle denunze di alcuni imprenditori e gli uffici operativi. Dopo l'accordamento della Dittoria, siamo riusciti ad avere altre due misure delle oltre 20 dell'anno scorso, a dimostrazione che non si molla mai un metro, soprattutto nel monitoraggio di queste determinati attività, affinché la sana imprenditoria gilese possa continuare con tutti i problemi legati al processo economico, ma non a sottoporsi o a sottostare alle regole mafiosi. Siamo veramente molto contenti di questo utile risultato. Secondo le vostre risultanze investigative, uno degli arrestati, Maurizio Turbia, stava cercando di riprendere le redditi del clan. Sì, ripreso, ma tengo a sottolineare, come abbiamo detto soprattutto l'anno scorso ed è ancora di più di attualità, non con le vecchie metodologie, con l'indimitazione, con le violenze e con i gesti efferati, perché la violenza porta attenzione, porta più clamore, e invece tutti cercano in modo loro di imporso come nuovi imprenditori. Questo è un virus, una malattia molto, ma molto più grave, secondo me, della vecchia metodologia mafiosa, perché ti taglia fuori a modo loro con regole lecite e secondo loro non è inattaccabile, è solo un grande lavoro investigativo, è una grandissima autorità giudiziaria, che possono permettere proprio di liberare questo deserto e lasciare lavorare a chi veramente lo fa per il bene della collettività. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale di Gela, è convinto che l'adesione all'area metropolitana di Catania rappresenti un'opportunità di sviluppo per il territorio gelese. Lo dice il segretario Ghetano Minardi a seguito dell'incontro, avuto la settimana scorsa con il Comitato Sviluppo dell'area gelese. auspichiamo di Geminardi che l'amministrazione comunale metta in campo tutte le iniziative affinché la volontà popolare non venga disattesa e non siano risultati un danno per la comunità i soldi spesi per il referendum. Ammontano a quasi 2.000 euro i fondi raccolti di sera nell'ambito dell'iniziativa Una matriciana per amatrice che si svolta in piazza Umberto I a Gela, un carico di solidarietà per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. Gli chef del nucleo emergency di Ristol World Italia hanno preparato un menù completo in cui la protagonista è stata la pasta lamatriciana, piatto tipico della città rietina tra le più devastate dal terremoto. La manifestazione ha registrato la partecipazione dei club service di Gela. Questa sera abbiamo la possibilità di mangiare un ottimo piatto tipico della zona del Lazio e di poter contemporaneamente mandare un aiuto in una zona d'Italia dove è nata la matriciana che è stato colpito da un evento tragico come il terremoto. Quindi è una serata da passare in allegria per poter dare un aiuto a distanza. Con il sindaco di Amatrice abbiamo avuto notizie informate grazie anche ad altri sindaci che sono stati in zona come il sindaco La Rosa dove praticamente ha chiesto che l'aiuto potesse arrivare anche dopo che si spegniessero i riflettori. E noi questo lo stiamo facendo. I club service così come hanno sempre dato dimostrazione continuano a farlo contribuendo a diffondere informazione, a sollecitare e partecipare in prima persona con tutti i soci ad una manifestazione che chiama Raccolta la città per contribuire a devolvere in beneficenza la raccolta fondi che si è avviata con un piatto di matriciana in merito alle famiglie della cittadina di Amatrice sconvolta dal terremoto di qualche settimana fa. Supera i 10.000 euro invece l'altro aiuto economico che Gela dona grazie all'impennata di carta e cartone differenziati lo scorso mese di settembre rispetto allo stesso periodo del 2015. Il saldo positivo di questo tipo di rifiuti raccolti in città è pari a 150 tonnellate e consente la cospicua donazione grazie all'iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica Comieco in collaborazione con Anci e Conai. Il presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia ha stigmatizzato l'assenza della giunta nella seduta di Question Time di ieri sera. Come è noto da regolamento le riunioni di Question Time si tengono il primo martedì di ogni mese. La presenza del sindaco o dei suoi assessori è indispensabile per rispondere alle istanze dei singoli consiglieri. Il sindaco dice Alessandrasia solo ieri ci ha confermato via Pec che nessuno sarebbe stato presente perché la giunta era impegnata all'evento solidale per Amatrice e alla cerimonia per San Francesco. Io, continua Alessandrasia, non posso rinviare la seduta poche ore prima. Poteva comunicarlo in anticipo. E non è vero, sottolinea ancora il presidente del Consiglio Comunale, che nella scorsa seduta ci era stato detto ci sono le registrazioni a confermarlo e non basta la presenza dell'assessore Sardinitro a modificare il mio giudizio. Capisco gli impegni istituzionali, ha concluso il presidente Asia, ma che tutta la giunta non senta la necessità di presenziare al Question Time è una mancanza di rispetto non solo verso i consiglieri ma verso i cittadini che attendono risposte su tanti temi. Il presidente ha anche annunciato al Consiglio l'appello del Comitato Gerenzi so Populus che sollecita la giunta comunale a presentare ricorso entro i termini per l'adesione all'area metropolitana di Catania. Un amico a quattro zampe a scuola al fine di far conoscere e riconoscere il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo. È l'iniziativa che si svolta questa mattina nell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela alla presenza dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Noi siamo impegnati su una fascia di età molto particolare che è quella dei bambini che va dai 11 ai 13 anni che contempla una serie di problematiche talmente grandi talvolta pesanti da gestire per l'individuo e per le famiglie che noi come scuola e come agenzia formativa non possiamo che metterci a fianco delle famiglie e delle altre istituzioni proprio per quel processo di cui le parlava vale a dire la ricerca di una condizione di benessere nelle relazioni, nella comunicazione nella gestione della propria individualità in rapporto a quella degli altri che è necessaria per diventare poi delle persone serene, equilibrate capaci di vivere nel mondo e questo lo dico non solo per i bambini che hanno tante possibilità di affermarsi nella vita ma anche per i tanti altri bambini speciali ma comunque straordinari che a fronte di difficoltà di varia natura riescono comunque a fare un loro percorso scolastico e quindi anche un loro percorso di vita. La giornata di oggi è dedicata ad una illustrazione di come avviene in effetti ricercata in questo caso la sostanza stupefacente da parte di una specialità della Polizia di Stato che appunto si occupa di attività antidroga e questo è un esempio soltanto di come le specialità sviluppano delle specifiche attività anticrimine in questo caso appunto dedicate a questo particolare settore che è l'attività antidroga ma il nostro intento è quello di sviluppare una maggiore vicinanza con gli alunni propedeutica a incentivare anche il loro dialogo verso le forze dell'ordine a sentire una maggiore vicinanza e per maggiore vicinanza intendo la libertà che ciascuno studente senta dentro di sé di rivolgersi alle forze dell'ordine quando ne ha più bisogno Il progetto rientra nelle attività per l'area a rischio 2016 Abbiamo sempre come obiettivo principale quello che è educare i ragazzi alle relazioni uomo-animale in maniera specifica quest'anno parleremo di quello che è il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo per questo motivo abbiamo avuto lo che è di diversa associazione quindi diversi professionisti prima dei quali verranno l'unità cinofila della Polizia di Stato di Catania che ci parlerà quindi dell'addestramento del cane quindi come compagno di lavoro dell'uomo del cane poliziotto nelle diverse specialità poi avremo anche l'associazione Amici di Mita sempre nel 21 ottobre se non voglio sbagliare ho le date fissate il 21 ottobre è un'associazione di Ispica che si occupa dell'addestramento dei cani in aiuto del diversamente abile della pet therapy Gela è stata scelta come sede del convegno scientifico sulle patologie rare del sangue ne dà notizia l'AIPAM preseduta in città da Giacomo Giurato obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie l'iniziativa ha il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana della Regione Sicilia e del comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo l'appuntamento è per il 15 ottobre alle 18 nella sala congressi della Sicania Resort il giorno dopo, domenica 16 è prevista una tappa a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura Timorontè del Museo regionale e dei bagni greci un campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete ai loro familiari e ai loro amici è organizzato dall'ADE Associazione Diabetici Eschilo presieduta da Giacomo da Giuseppe Curatolo si trarrà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre presso il villaggio turistico Sicania Resort a Tenutella in territorio di Marina di Butera gli incontri inizieranno venerdì alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30 diversi gli esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla tre giorni di incontri è prevista anche la partecipazione della Presidente della Casa del Volontariato di Gela chi è interessato a partecipare può contattare il 393-3748-604 lo ripetiamo 393-3748-604 Fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente cosa conferire? plastica piatti e bicchieri monouso in plastica bottiglie di acqua e bibite flaconi taniche dispenser e tubetti vuoti per detergenti detersivi shampoo e dentifricio prodotti per l'igiene della persona e della casa baschette contenitori buste e sacchetti per alimenti imballaggi in polistirolo reggette stringipacchi blister reti e cassette per frutta e verdura contenitori con sigle PET PVC PPPPS cosa conferire metalli lattine per bevande scatole e lattine in banda stagnata contenitori in metallo pelati tonno mais cibo per animali contenitori di prodotti per igiene personale tappi coperchi e stampi per dolci in metallo carta in alluminio di uso domestico pulita contenitori in alluminio per alimenti puliti bombolette spray vuote non pericolose coperchi in alluminio degli yogurt lattine con il simbolo AL come conferire il multimateriale gli imballaggi in plastica assieme agli imballaggi in metallo alluminio banda stagnata e metalli vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ed eccoci seconda parte del telegiornale Gela Segreta dentro l'acropoli è l'iniziativa promossa dal polo archeologico regionale di Gela e di Caltanissetta e dall'archeoclub d'Italia sezione di Gela si terrà venerdì 7 ottobre alle 20 e 30 in quell'occasione l'acropoli di Molino a Vento aprirà i cancelli per una visita eccezionale all'interno del quartiere abitativo di solito visibile solo dall'alto sentiamo come sarà organizzata la serata che vi vedrà attori principali all'acropoli sì la serata di venerdì 7 ottobre inizierà alle 20 e 30 per concludersi alle 23 e 30 circa ci sarà dapprima una visita all'interno del museo dove troveranno i partecipanti una vetrina simbolicamente vuota in attesa di una serie di reperti le cui immagini saranno proiettate all'interno del museo che sono stati rinvenuti in acropoli che oggi non sono più a Gela per cui speriamo di riaverli presto proprio in esposizione e poi ci sarà una visita in acropoli che è stata eccezionalmente tra l'altro pulita per cui vi sarà una passeggiata muniti di torce all'interno sia dell'abitato che comunque del resto dell'acropoli che di solito appunto è visitabile guidati appunto dagli archeologi ricordiamo che l'iniziativa è completamente gratuita chiunque può partecipare sì chiunque può partecipare portate anche i bambini ovviamente appunto munitevi di scarpe comode perché si tratterà di una passeggiata all'interno anche di aree che di solito non sono appunto visitabili e tra virgolette cocalpestabili di conseguenza scenderemo a gruppi ci saranno appunto tutte le guide a disposizione e penso che sarà insomma un'emozione per tanti anche una vista diversa comunque delle nostre archeologiche l'obiettivo se vogliamo Giorgia Turco è quello di valorizzare il territorio scoprendo la Gela Segreta la Gela Antica sì gli obiettivi di Gela Segreta che ormai appunto è un format potremmo dire sono proprio quelli di far vedere soprattutto ai cittadini quindi a chi vive costantemente questo territorio di farlo appunto vivere in modo completamente diverso inedito con occhi diversi e soprattutto nel caso comunque delle aree archeologiche che spesso appaiono un po' distanti diciamo da quello che può essere la nostra percezione farne comprendere il valore e riappropriarsene in modo appunto anche fisico di questi luoghi che devono entrare a far parte della nostra vita ricordiamo venerdì alle dalle 20.30 alle 23.30 portate torce e scarpe comode la pagina dello sport il calcio è partita la prevendita dei biglietti relativi al derby di domenica prossima al Presti tra Gela e Ige Virtus la società bianca azzurra per l'occasione ha predisposto la prevendita di 200 biglietti al prezzo speciale di 2 euro per la curva Angela Boscaia riservati ai soli studenti delle scuole medie e superiori della città solo fino a domani gli altri tagliandi di curva 5 euro e tribuna 10 euro possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati pausa internet in via Venezia 316 e ottica che sarà in via Navarra 19 domenica inoltre il botteghino dello stadio comunale di via Niscemi aprirà alle ore 13 la dirigenza bianca azzurra informa inoltre gli abbonati che entro domani verranno convocati per la consegna dell'abbonamento annuale l'associazione italiana arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2016-2017 le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le 211 sezioni dislocate sul territorio nazionale entro il 31 ottobre per la provincia di Caltanissetta saranno organizzati due corsi di cui uno a Gela promosso dalla referente Aia Riccardo Zagalini possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambusessi che siano cittadini della comunità europea e che abbiano compiuto alla data dell'esame il quindicesimo anno di età al termine del corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all'esame prova che prevede dei test scritti e orali sul regolamento del gioco del calcio e un test di idoneità atletica per informazioni ci sono due numeri telefonici 0933 91 11 09 e 338 45 96 071 il valore dello sport e dell'alimentazione nello sviluppo del bambino è il tema che è stato trattato nell'auditorium dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela sono stati presentati il progetto di educazione alla salute allo sport ed ambiente per gli alunni delle scuole di ogni ordine grado del comune gelese per l'anno scolastico 2016-2017 le manifestazioni sportive promozionali storico-culturali e ambientali che si terranno nel parco di Montelungo nel centro storico e alle mura a Timoleonte Giuseppe Veletti presidente della Green e Sport noi ormai da otto anni coinvolgiamo tutte le scuole di Gela dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado tutti i bambini nonché i genitori gli insegnanti delle scuole che prenderanno parte a queste iniziative di valorizzazione e fruizione di aree urbane e non e siti archeologici centri storici con l'obiettivo di far vivere delle giornate non soltanto sportive ambientali culturali ma principalmente di socializzazione ai nostri microfoni il dirigente scolastico Viviana Aldisio questo non è il primo anno che noi aderiamo ai progetti e alle attività che l'associazione Green Sport promuove nel territorio indipendentemente che il professore Veletti appunto si trovi ad essere una risorsa della scuola quindi una risorsa umana insegna presso questa scuola condividiamo in realtà gli obiettivi e la linea diciamo di indirizzo di quello che l'associazione Green Sport promuove nel territorio che è il connubio fra gli importanti valori per una sana crescita dei nostri alunni lo sport il benessere fisico quindi la salute e la contestualizzazione nel territorio rispetto alla valorizzazione dello stesso e dei siti più belli e più importanti dello stesso che i ragazzi hanno diritto di conoscere ma nel contempo di vivere quindi attraverso esperienze concrete di vita vissuta presso i siti medesimi è partita la campagna abbonamenti per la stagione teatrale all'antitodo di Gela il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco l'abbonamento intero lo ricordiamo costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani per informazioni c'è un numero telefonico 0933 82 2707 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito